bella raga oggi continuiamo con la nostra serie multiplayer di minecraft e c'è sempre con noi marco 24 09 marco bante marco bante visitate il suo canale anche se è un solo straccio di video che di nove mesi fa dove presentare il suo server della 1.3.1 perché non fai video sei un pigro ti punisco adesso sei un pigrone marco no dai non uccideremo mi avevo ucciso 30 secondi fa dai torniamo a casa tanto le coordinate aspetta che un foglietto allora sono x 149 y 70 no c'è x 149 z 189 tanto la y nell'altezza e quindi non ce ne frega un cavolo perché tanto è vero è lì la casa non me ne frega niente e perché tanto l'altezza è sempre questa cosa sono caduta un crepaccio un super crepaccio è una fighetta ui direbbe luco 43 16 poi ho sentato nella caverna io non abita spero no vabbè in una caverna quella dove sono passato io forse sì un buco gigante adesso mi teletrasporto adesso lo trovo che sarebbe stato del teletrasporto tp matteo del xd marco 24 giorni sto arrivando ok no sono andata nella palude adesso come ci sono andata a casa io aspetta era x 149 e x 149 e z 189 ah è lì la casa non la vedi uccido qualche maialino e davanti a me uccidiamo qualche maiale dai e non posso mamma e non posso no non posso mamma e dai andiamo devi andare no no non devo andare a sentire tua mamma dovresti andare vabbè chi se ne frega sono le madri che rompono vero marco come il mio amico e niente torniamo a casa e oggi facciamo un episodio di costruzione dai basta andare in caverna appare scemenza e morire dove sei sei uscito dal gioco ah no ci sei ancora dove sei marco dino forse non funziona skype oi scusa matte sono dovuta andare se la mia madre si è incazzato ah ok va bene no ti ha scritto marco di senti vabbè e lo avevo visto certo certo ah cioè non mi sono messo neanche i miei pantaloncini alla moda i nuovi jeans scusa matte era 100 oh un crepaccio un crepaccio dove 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 mi teletrasporto eh vabbè dai dove eh lo so è pieno di crepacci bellissimi pieni di roba di quelli super giganti dobbiamo andare ad esplorarli eh dove ah ecco eccoli uno è quello uno è uno di questi c'è ferro mi butto e stasera mi butto stasera mi butto stasera mi butto adesso me la sto ricordata perchè l'hanno fatta e l'hanno mandata a strisce a strisce la notizia uno di questi episodici parlo l'italiese di luco 43 e 16 sto facendo c'è del ferro adesso allora lo faccio io oro c'è oro non è vero io ho fatto un piccone in ferro però a te eh no non ce n'è comunque sto facendo troppa pubblicità al luco però eh meno male che il carbone si può prendere anche col piccone di 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 luco ah è vero che tu non ce l'hai non è neanche un piccone di di pietra tu e tu mi hai dato quello schifoso io ma dai pure le colpe a me adesso oh cavolo marco le parolacce le parolacce ok adesso raccolgo questo ma baffanculo è uno dei miei compagni dai dove no è già notte dai andiamo vicino alla lava che almeno c'è c'è luce cosa prende un po' di carbone un attimo e ce l'hai un po' di ah oh mi hai fatto cagare a Matteo eh la so faccio cosa e dicevo ce l'hai un po' di legna? eh sì no bugia l'ho trasformata tutta con le tronce vabbè almeno qualche stick ce l'hai chi è che mi sta lanciando frecce? sei tu? no chi è che mi ha dato? ah c'è uno scheletro là un camperone mi sta attaccando adesso mi sta attaccando adesso un scheletro del kaiser c'è del ferro lì guarda girati lo vedi? no non c'è il piccone di di scheletro quindi l'ho tu dai te l'ho dato stasera adesso come facciamo a tornare su però? vabbè io ho 26 blocchi di di ogni ente di pietrisca vabbè comunque al massimo lo raccoglio vabbè scaviamo la pietra fino in alto scusa si aperta è quello comunque lo possiamo raccogliere dai chiude un po' di acqua che rompe rompe lo scheletro mi vuole bene non mi sta neanche attaccando boh forse è desponato ah c'è il troferro qui dai uffi ti ho dato il mio piccone di ferro c'è un creeper lì in fondo però però adesso spawnano anche qua no cosa voglio attaccarlo? stavo scherzando c'è uno zombie e uno scheletro stavo scherzando e l'ho visto secondo dai tu prenditi qualche blocco intanto proviamo a risalire su dai faccio una stradina ecco anzi fai una strada qui davanti ecco no dai non ne ho di piccone no non dammi quello quello di legno dai non la scavo io quindi tu seguimi no ma mica le scale ci vogliono due anni per le scale dai ma cosa sei scemo no 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 tu la strada di ferro no pensavo fosse un creeper scusa poverina mi hai tolto molto mi hai tolto sei cuori cavolo ti ho attaccato molto velocemente pensavo fosse un creeper quindi perchè dal tuo microfono ho sentito c'è Marco come si fa a mettere minecraft ultimate non lo so dai uffi tu sei tutto vabbè lo voglio troppo mi piace troppo voglio fare quei vlog ma chi è che ti ha tolto conoscere minecraft indovina qualcuno che si chiama Marco Bande a scuola forse si qualcuno che mi ha fatto conoscere minecraft ti sarò sempre di cosa mi picchi cavolo sto scavando io ti sarò sempre debitore dai Marco me lo dai un piccone di almeno il piccone di legno che faccio prima quanto ci scommetti che nel giro di 30 secondi sono su? quanto ci scommetti invece che siamo così arrivati? eh si guarda che è molto alto vabbè tanto abbiamo le coordinate mi danno fastidio questi dati così vado a prendere qualche torcia da giù qua è la torcia da giù così ti faccio luce ne ho torcia forse anche troppo ne hai? molte? tipo? un quattro e un po' però non ce l'ho di metterla ne ho 61 più 7 tu vai avanti tu ne metto io ok l'ho finita ok due che ho rubato da giù dai muoviti sono io sono io non è un creeper e non mi... no 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 dai oddio tranquillamente c'ho la... il cibo è tutto sceso aspetta che devo fare una cosa eh dai ecco fatto oh e io posso fare... ah aspetta eh fai una cosa eh mi sta riempendo di briciole di pare di... di pare di eh eh di caesca eh... di... di... create funzioni sì impostazioni video impostazioni video lo vedi le dimensioni qui? sì metti grande ok eh lo so gigantesco ma... si vedono meglio eh lo so bellissimo perché io all'inizio dai no quando non ero ancora su youtube per vantarmi delle mie case negli altri mondi che non ho fatto vedere e metti qualche truccia e facevi video con il telefono no è notte no è giorno certo che è notte ma almeno sarà quasi giorno dai dicevo facevi video con il telefono e non si vede oh cavolo forse uno uno no ci sono 1 2 3 4 ci penso io al creeper io sono troppo forte dai oh cosa mi spari cosa mi spari no io adesso lo scopo io scopo tu io scopo tu ok dai dove sei ma sono qui eh qui dove nella grotta no dove sei no mi è finita la spada oh cavolo dai dove sei sono qui su ah si vedo il tuo nome c'è un rai che mi è passata a fianco non ho spade non ho spade non ho spade intanto cerco le coordinate f3 oh siamo lontanissimi aspetta un attimo ah c'è della cordicella posso fare l'arco sia per me che per te dai sai Marco cosa non so farlo sia per me che per te dai Matteo corri e dimmi dove bisogna andare Matteo in un triangolo esoscere quali sono le diagonali? cosa? in un triangolo esoscere quali sono le diagonali? eh le devo controllare dopo roba di compiti raga eh le devo controllare dopo guardando il video il video il libro eh oh cavolo un enderman lo stavo guardando uè eh dai un secondo è urgente devo prima i compiti dai no il video dopo il video dai adesso lo stoppo un secondo dai no madre nel senso che mia madre ha parlato eh lo so quanto ci impiega a guardarlo? ci metto poco dai adesso faccio pausa nel video ci sentiamo dopo 3 2 1 niente 3 2 1 sono scemo scusate raga è un imprevisto in diretta e abbiamo sono riuscito a tornare da Marco col teletrasporto che bellino l'elmetto fai schifo non si vedono neanche gli occhi comunque sono tornato qua mi ha teletrasportato io pensavo che ci fosse il countdown prima di iniziare la registrazione dopo la pausa invece no mi ha fatto una spada di ferro e niente abbiamo risolto forse il problema di geometria della realtà no vabbè bellissimo momento epico Matteo facendo te l'elmetto grazie dicevo momento epico vero hai pure le scarpe tu che cavolo io ne ho di ferro ho 3 di ferro vabbè te ne è rimasto no aspetta Matteo ti posso fare solo le scarpe se hai il ferro però si io ne ho 3 mi faccio si mi faccio l'elmetto no aspetta no 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 dammelo il ferro dammelo il ferro che mi faccio la giuba faccio la maglietta la che? la giuba la maglietta anche se mi piacevano più i miei pantaloni e le mie scarpette gialle però vabbè poi c'è anche un po' di carne dai ho 12 di carbone bellissimo è davvero un momento epico questo episodio lo chiamerò tipo minecraft multigiocatore una cosa così poi do il nome dai dammi il dammi il 4 di di ferro non è più di 4 4 di ferro no non è finito per farmi le scarape cavolo ho messo un po' di carne a cuocere dove sono finite tutte le tue fornaci mettile e non so dove sono finite ah ce le ho io te le ho rubate passamene qua adesso io dove metterle le metto io basta così dai va bene così tipo le crafting di là mettiamo le ceste ah no ci sono i letti e qui mettiamo le ceste dai metto la carne io prendo un po' di carbone le mu che fanno mu ma una fa mu mu eh sì budino al latte con le macchie super goloso super cremoso vaniglia ciocco ciocco vaniglia l'ha fatto mu mu la buca con gli occhiali ok dopo questa e adesso ti cancellano il canale per copyright ah è vero me la cancellano quelli lì di non mi ricordo neanche come si chiama quello yogurt strano lo yogurt con le macchie no ma c'è un creeper non so la storia strano non ce ne sono mai di creeper no ma è sbagliato qua ah no è giusto è sbagliato tu con il legno nemmeno ancora qua è pieno di creeper da tutte le parti dai prendo un blocco di legno ok sto facendo un sacco di casino per niente vabbè prendo un blocco di legno lo metto a posto ma lo hai tolto tu il blocco di legno per salire su l'ho rimesso io ok ma te dormiamo cosa ah si dormiamo ma è sbagliato guarda guarda i vetri ah no ne manca uno anche qua si sveglio Marco ma molto dai lo prendo io lo metto io oh dio non esco c'è un creeper eh lo so lo metto io da dentro però eh io intanto distruggo il pezzo di legno qua fuori dove è il creeper neanche lo vedo ah salve creeper oh cavolo Marco spostati e qui davanti si è esplodito il picchio salve signor creeper ah devo fargli gli archi no 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 cacchio paura eh non ci vede tanto dai andiamo a dormire oddio c'è del tipo c'era un cavo che mi è sembrato un ragno stavo portandoci la tasca di computer non mi puoi dormire oddio cosa sta succedendo ok niente ci sono ah dai oggi costruiamo però eh c'è una zombie lì che brucia dai facciamo un arco e costruiamo due archi e costruiamo tanto io ho anche due frecce ammate c'è un creeper ma dai è pieno di creeper non uscirne è qui davanti esco e lo faccio fuori ma creeper mi stai anche guardando comunque se ci pensi ci sono due creeper lo so adesso lo usci da tutte e due vorrei scudere lontano lo so avvisami se viene alle spalle oh cavolo vabbè non l'ho visto mi ha dato una lagata di quelle maiuscole quindi niente sono rimasto davanti non mi ha calcato il tasso del mouse ma perchè sono bloccato nella porta adesso uccido questo lontano speriamo che non despawni non abbiamo neanche polvere d'aspero vieni vieni vuoi restare mi dai l'arco non ho ancora fatto no cretino del cavolo super buco adesso con tutta questa terra riparo un po' tanto mostri non ce ne sono più vero non mi viene un creeper alle spalle a farmi cucu cucu bubussette cucu putz e fa la sorpresa boom e marco tu intanto che io rimetto a posto guardami le spalle aspetta che sto prendendo un po' di roba dalla cesta dai prendi prendi gli stick e tanto ne abbiamo mi ha furato le patate io ne ho preso metà diciamo c'erano 39 aspetta che devo modificare un po' tutto dai ma devine in caso ci dovesse essere un creeper dove? lo uccido io dai che cavolo dove è il creeper coprimi devo rompere un po' di legna qua se deve essere sbagliata devi vabbè ne ti copro no dai voglio sistemare un po' non fa niente tanto saranno già desponati quando arriverai tu no? cos'è no giusto no giusto è tutto giusto facciamo crescere un po' di albetta yeeeh io prendo altra che si fa? e adesso costruiamo che cosa? il secondo piano yeeeh facciamo le colonne tipo la casa di zampi 15 yt giusto? cioè sto facendo troppa pubblicità però vabbè se sono bravi no 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 fai bene fai bene che cosa ci posso fare? dai anche se comunque anche lui è uno di quelli bravi è già un bel po' di scritti è un sacco di visualizzazioni nooo un blocco di terra un sacco di visualizzazioni però io li guardo sono bravi che colpa c'è no c'è un altro creeper mamma va dov'è? no lo voglio uccidere io è lontano però eh eh dove sei? vabbè adesso ti raggiungo forse vabbè ti sento più al andando un po' di lana per il secondo piano io c'è una carne di zombie due vabbè adesso vado a fregare c'è un altro creeper lo faccio qua ah ecco perché non puoi fare eh dopo lo esploriamo salvati le coordinate cioè mettile nella chat io faccio gli archi ecco perché non li potevi fare tu io ho tutta la cordicella nooo sto già sbagliando ti sento bene adesso ah bene bene prima no prima ti sentivo un po' più ovale però andavi bene boh dove vado ho preso c'è basta che vai da amplifon eh e mi senti meglio la sai che la prova dell'udit è gratis davvero? faccio due cani da pesca faccio vedi adesso ti sento male eh vai da amplifon che colpa ne ho io dai vieni che ti devo dare un arco anche se non ho frecce anzi si le ho tutte io ho otto frecce sono qui dentro casa matte dentro casa abbiamo 14 di gana eh lo so non ce ne facciamo un un kaiser tieni un arco e ti do anche una canna da pesca dai così dopo puoi uccideri i creeper adesso che è la canna da pesca ho scoccato una freccia che bellino una freccia nella spalla dai vabbè anche se uno spreco ci voleva dopo faremo anche lo smistamento chest vediamo un po' eh si dai prendo un po' di legna e inizio a fare secondo piano no ho buttato 63 torce bravo mi sa che me ne hai presa tu o no cosa ti devo dire bravo ok quasi tre stock di legna lo trasformo ne trasformo un bel po' in in lastre di legna si a volte cosa dobbiamo farci cosa? il campo dobbiamo farci un campietto di grano eh lo so io abbiamo un sacco di di semi dai facciamo il secondo piano in alto oppure facciamo due colonne all'esterno eh ma possiamo quattro colonne matte per ogni angolo ok beh allora prendo non le prendo le assi di legno prendo la legna no matte cosa? matte la colonna la vuoi che si può eh entrare o che si può come si dice? no collegata alle porte cioè ma ma ci vuoi cioè nel senso la vuoi che si può entrare dentro o che non si può entrare cioè a quattro cubetti eh allora che si può beh certo che si può entrare dentro che magari danno eh ci portano al secondo piano no vabbè facciamo delle colonne con tipo una sala facciamo tipo una sala però lo facciamo di di pietra o di di legno di legno di legno manca un po' di cobblestone ok magari per fare qualche dettaglio adesso niente ti do la legna tu che sei brava a costruire le fai a ogni lato e poi magari è solo un paio ne ho io un sacco guarda allora ho quasi tre stock di legna bisogna anche togliere molta erba Matte eh vabbè non fa niente ci penseremo un altro giorno quanto sto registrando aspettate 23 minuti dai è troppo saluta Marco dai è troppo adesso ciao e niente per questo episodio è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio arrivederci non mi piace tanto Marco perché lui è da arrivederci ciao ci vediamo aspettate epic fail che vediamo aspettate